Amiche ed amici bianconeri mi raccomando, iscrizione al canale, likes e commenti. Al sesto minuto la Juventus è già in vantaggio come al solito Linet Bierenstein. Implacabile in zona goal in questo avvio di campionato Linet Bierenstein. Caruso di prima, Girelli può girarsi, opportunità per la Juve, arriva da destra Bonanzea che la tiene in campo, lo sguardo al centro, mette il cross, Girelli! Accelerazione micidiale della Juventus sull'asse Bonanzea-Girelli, arriva a raddoppio, 10 gol in carriera contro Sassuolo e record per Cristiana Girelli. Ancora Filtians, cross dalla tre quarti verso il movimento di Monterubiano che prova a girare verso la porta. Siamo due o tre metri fuori neanche dall'area del Sassuolo. Conta i passi Girelli, fischia l'arbitro, va Cristiana Girelli! La parata di Duran che alza in calcio d'angolo, ha cercato il palo del portiere la numero 10, non si è fatta sorprendere Garbino che danza tra le linee, poi si gira con grande eleganza. Va a servire Bierenstein, si butta dentro grosso, Bierenstein serpentina fino in fondo, Bierenstein! Gol meraviglioso dell'olandese! È Trissi Juventus, è doppietta per Linet Bierenstein! Incontenibile! In forma sbagliante, bellissimo anche l'assist, l'apertura di Garbino, poi si butta dentro grosso a portare via un'avversaria, a destabilizzare la difesa. Fa tutto però Linet Bierenstein, lo fa benissimo per il 3-0 Juventus. Tocco di Pledrup-Gram per Duran che rischia molto! Arriva il 4-0 della Juventus, Garbino! Il rimpallo che vale il poker per la Juve, era andata in pressione la francese, ci ha messo troppo la connazionale Duran a rilanciare. E notte fonda per le Emiliane, Garbino ringrazia e fa 4-0! Toccata a Zamanian, ma la Juve ha già riconquistato il pallone, Garbino, movimento a mezzaluna di Girelli che mette il cross, Bierenstein! Bierenstein, Turan, gioia strozzata in gola questa volta per Linet. Palla che rischia di mettere un po' in difficoltà la difesa, allontana Cascarino. Poi Niden, prima di lei arriva Zamanian, per Omagnan! Intervento super del portiere francese. Lancia lungo per Omagnan, si apre la difesa del Sassuolo, Bierenstein stesa e vediamo di che colore è qua. E il cartellino, che è rosso, espulsa Santoro, fallo da ultima giocatrice, Mella. A far imbalzare qua Missipo, tiro centrale in due tempi per Omagnan, che oggi sembra invalicabile. Triplice, fischio dell'arbitro, finisce qui la Juventus, c'entra la quarta vittoria in campionato, batte 4 a 0 il Sassuolo.